Ciao a tutti, sono Lorenzo Cozzarini e nel video di oggi vi voglio far sentire e vi voglio anche parlare di come inserire all'interno di un brano di un ritmo cha-cha-cha le congas, il guiro e i timbales. Andiamo ora a vedere l'esempio numero 1. Adesso che abbiamo sentito l'esempio numero 1 come suona andiamo a vedere come suonano gli stessi strumenti invece nell'esempio numero 2. E siamo arrivati all'ultimo esempio. Andiamo a sentire ora come suonano le congas, i timbales e il guiro in questo esempio numero 3. Bene, e ora andiamo a sentire e a mettere questi strumenti e questi ritmi che abbiamo sentito in sezione solo percussiva all'interno di un brano cha-cha. Grazie a tutti. Siamo arrivati alla conclusione di questo video di oggi, spero vi sia piaciuto e sia stato interessante. Se lo è stato vi invito a iscrivervi al mio canale, a mettere dei commenti qui sotto, a schiacciare like e ci vediamo sempre qui su youtube per altri nuovi video molto interessanti. Ciao! Ciao!